Ciao a tutti, sono Andrea Carbone, uno studente lavorato nel corso di laurea di ingegnere gestionale presso la Liuc. Attualmente lavoro presso Leonardo, la divisione di elicotteri, in qualità di contract manager nell'ambito international sales e di conseguenza mi occupo della gestione di contratti di vendita di elicotteri durante tutto il loro ciclo di vita. Si tratta della mia prima esperienza lavorativa e di conseguenza non nego che inizialmente ho avuto difficoltà a confrontarmi con un contesto così ampio e dinamico come quello di Leonardo. Però devo ammettere anche che nel corso delle settimane e dei mesi mi sono anche reso conto che il percorso di studi che ho frequentato mi ha reso in grado di confrontarmi con un contesto internazionale, dinamico e complesso come quello di Leonardo andandomi a fornire una serie di soft skills e una forma mentis che per l'appunto mi rendono in grado di affrontare la quotidianità in azienda.